Dopo le non eccellenti prestazioni dell'ultimo episodio dobbiamo assolutamente ritrovare la nostra forma e soprattutto cominciare a fare risultati. Bentornati sul canale ragazzi, siamo qui pronti per proseguire la nostra carriera con il danese Mets Winter alla guida del Torino su FIFA 22. Ovviamente vi raccomando come inizio video di lasciare un like, di iscrivervi al canale ed attivare la campanita delle notifiche prima di sempre aggiornati sui news del canale. Prossima partita la giochiamo contro a Roma e soprattutto non vedo l'ora che escono anche delle patch perché ovviamente Roma FC è una cosa orribile, soprattutto orribile questo stemma, ma andiamo avanti e vediamo come ci schiederemo in campo. La nostra formazione sarà la seguente, esordisce Beriscia, voglio provarlo anche perché comunque come overall ha ben quattro punti in più rispetto a Minkovic Savic, Voivoda a destra, Bremerci a Lobacco per difensiva centrale, Ansaldi, torno a sinistra, Brekalo, Pride, Mandragoli di Marco il quartetto di centrocampo, Sanabria e Belotti in attacco, mentre a Roma scendere in campo con lui Patricio, Santon, Mancini, Bagnes, Malassia, uh l'olandese molto forte anche su Football Manager, dighe di centrali, di centrocampo, Cristante Veritù, dietro l'unica punta Abram, abbiamo Nuakkaeme, penso che si pronuncia così, Pellegrini e Mkhitaryan, andiamo quindi a giocarci la partita. Ansaldino, Ansaldino, è tuo, è tuo, è tuo, si va a passare, Nuuuu, Remer per Mandragora, Mandragora per Belotti, Belotti prova il tiro, fuori di poco, ai 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 ai, Nuakkaeme, Nuakkaeme per Isha, bella uscita, ragiona, Sanabria, Sanabria allarga per Brekalo, Brekalo in area, in area Brekalo, che tiro brutto, mamma mia, Pellegrini, 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 bella per Isha, no ragazzi il contropiedone no, Mandragora, vai su Nuakkaeme, Mandragora, no, 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 contrasta, palla fuori, cross in area, Ansaldi, paratone di Rupatrisio, attenzione, attenzione, che i contropiedi qui sono bestiali, attenzione che i contropiedi sono bestiali, Nuakkaeme, Beriscia, la butta fuori, non lo so, devo dire che la coppia Belotti-Sanabria aveva iniziato bene, però, non lo so, non mi sta convincendo molto, intanto sbagliamo il pallone, Prat la sciupa, Pellegrini, 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 si inculinare, si inculinare Pellegrini e la butta dentro, mannaggia il diavolo, come sempre, prendiamo i gol da Polli, attenzione adesso, non prendiamo le imbarcate, la partita ancora aperta, la partita ancora aperta, forse, dai ancora, Mandragora, Mandragora per Sanabria, Sanabria a sterza, Sanabria a sterza, prova il tiro, non so veramente come segnare, anzi, e poi ci fanno anche il gol loro, quindi, no, il contropiede no, questi sono i gol che fanno male, disfatta, Torino contro Roma, 3-0 in casa, dopo aver giocato l'ultima partita in modo clamorosamente schifoso, dobbiamo ora però rifarci contro il Napoli e non sarà una partita semplice, una cosa interessante però, e che andremo a vedere ora, è che ho cambiato modulo, ho messo un 4-2, 3-1, partiamo dalla nostra formazione, con Beriscia in porta, Vevoda, Bremere, Cialobà, Di Marco in difesa questa volta, Linetti e Mandragora, come dici, di centrocampo, Piazza Praet e Breccaro dietro Belotti, ho messo anche qualche istruzione particolare, o meglio, molto più precisa, giocatore per giocatore, però veniamo così come renderà la squadra, inoltre facendo così, avendo poi Di Marco, eventualmente Ansaldi, potremo andare eventualmente a Gennaio, cede Rodríguez, 4-3 classico per il Napoli, con Meret, Malqui, Juan Jesus, Koulibaly, Digne, Elmas, Demme, Mertens, cioè Mertens, mezzala, vabbè, e l'attacco composto da Lozano, Osimène e Insigne, ergo andiamo a giocare. Intanto fallo su piazza, però l'habito lascia correre, Praet per Mandragora, Mandragora va per Breccaro, 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 ed è 1-0 Toro, contro Napoli, al San Paolo, questo 4-4-1-1, diciamo così, o meglio, 4-2-3-1 in fase di possesso palla, è un po' più funzionale in base a come sono abituato a giocare io, e poi tra l'altro a Belotti ho messo come istruzione di far salire la squadra, quindi è questo il lavoro che deve fare lui, ora come ora, quindi prendere il pallone, difenderlo, lottare, però non come il Torino Reale che fa soltanto quello, deve anche segnare, attenzionosi man, attenzionosi man, attenzionosi man e pareggiosi man, ho parlato troppo presto, eccola, 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 Beriscia, meno male che interviene, però ragazzuoli, sulla seconda palle dobbiamo andare ugualmente, azione per fietta, azione per fietta, azione per fietta, azione per fietta e piazza la butta rossa Beret, qua può andare bene, andiamo così, andiamo così, però Brecalo, che la mette di testa Brecalo, ragazzi che uccellata, cioè io la volevo passare a Belotti, Brecalo che è alto un metro e una vigor sola, anche lui, la mette dentro di testa, pallonetto sul secondo palo, che poi tra l'altro chi è che aveva davanti, aveva davanti Insigne, insigne un lipuzziano come lui insomma, Insigne no, Insigne no, Insigne no, Insigne no, Insigne no, insigne no, infatti è segnato Lozano, attenzione Insigne, attenzione Insigne, attenzione Osimène, paratone Beriscia, uh, Brecalo, resiste a Malqui, resiste a Malqui, resiste a Malqui, cross in mezzo, cross in mezzo, Belotti no, Belotti no, cosa mi ha buttato fuori Belotti, di pochissimo, andiamo su Lozano, andiamo no, 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 ma sottirata, Praet, Praet scame con Brecalo, Brecalo, Brecalo scatta, Brecalo ancora, ma fallo, porco Giuda, Insigne la butta dentro, abbiamo buttato via un'altra partita, Praet allarga benissimo per Brecalo, Brecalo rientra, in mezzo Brecalo, oh, signore mio, signore mio, e finisce qui, 4-2 contro Napoli, sì, sempre il solito discorso, non è contro Napoli che dobbiamo vincere, però, eh, che cacchio, altra partita difficilissima, quella contro l'Atalanta, finché sono tutti a posto fisicamente, possiamo andare avanti, Brecalo, Brecalo fallissimo, da parte Zappacosta è già un giallo, dobbiamo puntare su Zappacosta allora, ancora Linetti, Linetti per Praet, Praet che larga benissimo, per Brecalo, Brecalino, Brecalino, e Musso compie il Paratone, palla in mezzo, Madonna Belotti ne prendesse una, vai Mandragora, vai Mandragora, Paratone ancora di Musso, oh, eh, penso che dobbiamo andare in cerca di un attaccante, perché Belotti, mamma mia, mi avete scritto sotto i commenti, ma cosa intenzio di fare con Belotti, beh, se è così lo mando a calci nel sedere via, arbitro fischia, arbitro fischia, arbitro fischia, arbitro fischia, arbitro fischia, arbitro fischia, bravo Mandragora, fallo, no please, meno male, meno male, meno male, meno male, ragazzi, io devo andare assolutamente a cambiare Mandragora, io ho paura che Mandragora si faccia cacciare, non facciamoci uccellare, chiudiamo tutti gli spazi, chiudiamo tutti gli spazi, chiudiamo tutti gli spazi, andiamo in avanti, andiamo in avanti, vai, Belotti, 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 mannaggia te, Belotti, mannaggia te, Belotti, mannaggia te la tua occasione, e Belotti non sbaglia, questa volta è contro piede nostro, 1 a 0 per noi, tu 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 tu, un, poi non mi ricordo che utilizzavo quella mossa, tu 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 tu, un, linetti per piazza, 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 bravo piazza, bravo così, bella piazza, in avanti, se è possibile andare a fare il secondo, a me non dispiacerebbe, assolutamente, però altrimenti vediamo un attimino perché poi qualcosina, qualche cosa, dobbiamo porco mondo per Zeus, per Zeus, un'ennesima volta, questi hanno fatto un tiro, hanno fatto in porta, hanno fatto un tiro, lo prendiamo, bravo di Marco per Donis, Donis, anzi adesso Pride, bravo Belottino, Belotti, 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 non mi, ciii, gallone, stiamoci che, vai, 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 chi, per Belotti, vai chi con Belotti, con Belottino, Belottino, ditemi voi cosa fareste con Pobega, perché io lo riscatterei anche, però ragazzi, un 69 di overall, e non so fino a che punto possa crescere, purtroppo non l'hanno fatto fortissimo su sto gioco, quindi, ditemi voi cosa dovrei fare, secondo voi cosa dovrei fare con Pobega, intanto Ilicic, bravo Beriscia, Donis, Donis potresti chiudere la partita, e no Donis, Donis, ma che mi combini, e ragazzi, si vince, si vince, questa qui veramente è una bellissima prestazione, abbiamo avuto passaggi completati di 76, mamma mia, abbiamo avuto anche un buon numero di contrasti, possiamo sicuramente migliorare, ma queste sono delle ottime basi, e devo dire che in questo modo mi trovo veramente da dio. Andiamo quindi a vedere la classifica, siamo a 7 punti, siamo saliti di poco, e siamo sedicesimi, vediamo per esteso la classifica come si mette, allora, noi soltanto il Venezia ci potrebbe raggiungere, quindi siamo comunque in lotta salvezza, assolutamente, dobbiamo migliorare. Per questo episodio quindi è tutto, vi mando un abbraccione, e come sempre vi invito a lasciare un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campagna delle notifiche, e mi raccomando, tanti like al video, e tante iscrizioni al canale, perché voglio che mi dimostriate l'attaccamento a FIFA 22, e a questa carina, questa carina, questa cariera, di Martin Winter contro il Torino. Ci vediamo quindi presto, e buon proseguimento.